Un dolore immenso ha travolto la famiglia di Eleonora Chinello, la quattoricene di Sant'Angelo, di piove di sacco, investita e uccisa ieri mattina mentre in bicicletta stava andando a prendere l'autobus che l'avrebbe portata ad Olo, dove frequentava il primo anno di ragioneria all'Istituto Lazzari. I genitori hanno dato il consenso all'espianto degli organi e questo gesto di generosità consentirà di dare la speranza ad alcuni malati. Eleonora è deceduto in ospedale a Padova, dove era arrivato in condizioni gravissime. I medici avevano tentato anche un intervento chirurgico. Ieri mattina era uscita di casa, come sempre, salutando i fratellini e i genitori Massimiliano e Silvia Chinello, molto conosciuti in paese perché titolari dell'agriturismo al Pradi via Borghetto. Stava attraversando la strada all'incrocio tra via Galilei e via San Polo, quando è stata centrata da un'auto guidata da un 34enne di Campolongo Maggiore diretto verso Vigorovea. I soccorsi, arrivati in poco tempo, hanno rianimato la giovane sul posto e l'hanno trasferita d'urgenza in ospedale, ma le speranze si sono infrante nel pomeriggio. Oggi a scuola, a Dolo, è stato osservato un minuto di silenzio in ricordo di Eleonora. I compagni sono sconvolti e hanno scritto decine di biglietti per salutare la loro compagna. I loro pensieri, pubblicati sul sito dell'Istituto Lazzari, raccontano di una ragazza dolce e sempre sorridente. Il sindaco di Sant'Angelo di Piove di Sacco, Guido Carlina, ha espresso tutto il cordoglio dell'amministrazione dell'intera comunità alla famiglia Chinello. È probabile che la procura aprirà un'inchiesta. Purtroppo si tratta dell'ennesimo incidente nel Padovano, con protagonista studenti che vanno a scuola dopo le morti a fine settembre del 18enne di Mestrino, Alessandro De Marchi, vittima di un incidente in moto davanti di Sottoscarcerle a Padova, e di Sofia Gambato, 17enne di Campodarsico, investita in via Belzoni a Padova, mentre stava attraversando la strada per entrare al liceo selvatico, dove studiava. Altri due giovanissimi studenti delle medie sono rimasti feriti dopo essere stati investiti a San Martino di Lupari, a Noivente a Padovana, e infine la tragedia della piccola Olesi, alla 12enne Ucraina, investita e uccisa da una motrice di un treno, mentre attraversava il passaggio a livello con le sbarre abbassate in via Friburgo a Padova. E venerdì scorso Kevin Gentilin a Castelfranco Veneto, vittima di un incidente mentre stava andando a scuola. Grazie a tutti.